Ciao a tutti, oggi è giovedì 9 agosto 2018, sono qui ai giardini pubblici dove oggi pomeriggio alle ore 18 verrà inaugurata la nuova zona del parco giochi, vedete tutta quella zona lì che è recintata. Quello che ho notato è la grande pulizia che si sta facendo questa mattina, ebbene allora tutti i giorni andrebbe inaugurare qualche cosa in questi giardini perché è un'ottima cosa quando vengono puliti e quando c'è questo massiccio impegno di amagambiente che pulisce. Non mi soffermo molto, adesso vi lascio e ci si vede in un altro video. Ciao a tutti. Quello che vorrei, vorrei che finalmente nella nella zona del bar cangiassi venisse tagliata quella quella siepe perché tutti quanti vanno lì dietro a fare a fare i loro bisogni. Possibile che non se non accorga nessuno, dove dove ci sono le siepi alte tutti quanti vanno a urinare, defecare, drogarsi e robe varie. Va bene speriamo che questa zona, questa zona che io chiamo Berlino est perché un paio di mesi fa, anzi l'anno scorso, era tutta buia questa zona e che mi sembrava che Viale della Repubblica fosse il muro di Berlino mentre dalla parte dei giardini, quelli sul lato di Corso Crimea tutto illuminato e di qua tutto buio. Anche la al parco giochi stanno facendo gli ultimi i lavori, vedete sentite che stanno lavorando, vedete lì ci sono delle maestranze che lavorano, io vi saluto e ci si vede, non so se ci sono oggi nel pomeriggio per vedere questa inaugurazione, spero di sì. Ok ciao a tutti e buon giovedì.